si è divertito? è mosche ah? si è divertito? alla partita prima si è divertito? alla partita prima qualche kill è su ritorno immite un punto di lancio per il kill si sta avvicinando meglio se iniziate a correre sopravvivete per far rischi arari caduti e accumulate punti perché tordi non fio in fretta e qua la? e qua la? bersaglia in capo abbattetevi ah c'è chi non dimanere qua? c'è chi non dimanere qua? controllo aggiornato modo ufficio obiettivo aggiornato lascio dove obiettivo raggiunto tutte le case di scorte trovate prendete quella corazza l'ultimo granata si è avvicinata attenzione a terra a terra uovi nemico attivo a terra l'alto a terra uovi nemico attivo guarda 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 Sto spendo il porto di mica! Faccio di equipaggiamento in arrivo! Ah? Nooo UAPI nemico attivo Ad arbor scende uno Ad arbor chemical scende uno Ma dove stai stupendo? Da questa parte Che c'è stato? Eeeh, la cassa di munizioni Mi metto via, guarda Andiamo a chiamare, la cassa veloce veloce Ah, non c'è un emizio, vabbè Mi hanno colpito! Mi hanno colpito! Un ultimo assalto ti servono, tieni? No, no, è una pistola a disposizione Ma vabbè dai C'è un altro eh? Il gas vi è quasi addosso Sta arrivando un nemico Attenzione in alto Non c'è un altro Mi hanno colpito! Mi hanno colpito! Mi hanno colpito! graniali attenzione la morizione per cerchini a terra la sopra c'è sulla torre c'è un bombardamento riuscito a chiamarlo però è morto ho marcato la destinazione cambiato idea colpo la destra grande mi lasci i soldi per l'uab oh i load out ce l'abbiamo qua oh è uno sparato attacco a grappolo nemico eccolo che buttava dove sta l'essere dove sta l'essere non lo so non lo vedo più 44 metri qui mi stanno sparando vado a fare fuori eh no la pizza no compa no entra entra donna anche mica la donna aspetta a b non c'è nessuno che mi posso prendere fantasma così già che ce l'abbiamo ok autonomia uab esaurita rientro alla base assaglio identificato buon divertimento uab nemico attivo saliamo sopra aspetta vado a comprare uab aspetta aspetta non lo buttare aspetta maschera ce l'hai qua ce n'è una 50 metri avanti 26 metri ah sul tetto sul tetto sta due sul tetto due sono eh non lo stanzino sareste tu io non lo stanzino ci siamo tutti bene oh è lo dot è lo dot non ho chiamato aspetta quegli stronti mi hanno puntato strontati lancio una granata guarda dove spari ando il secondo load out io li facciamo prendere a cazzo due team un po' carini giusto fanno corazza qua stanno maschera UAB ha creato questa maschera cazzo cazzo facciamo gli altri 6.000 ne prendo un altro pure io load out eh UAB allora allora aspetta allora non c'è l'arbor ah no già ce l'ho scusami dove stanno? ad arbor due metà saliamo io fai un attimo sopra si si facciamo un giro da dietro no no non vi facciamo un giro non c'è la testa nuova zona sicura per voi non andiamo non andiamo stanno fuori no no dai nel senso saliamo salva salvia salvia vediamo se c'è il coraggio di venire questi qua UAB questi ma manda qui serve una ricognizione uAB in salvolo no contratto scaduto obiettivo mancato ah c'è giù sono andate le munizioni lo so adesso sei negli ultimi dieci mi chiede si si mi sparmiano i colpi colpito 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 autonomia UAB esaurito turn non sta per finire testa ben piattata non c'è ma c'è nello stanzito non c'è calci terminati prezzi tornati alla banditura a terra fatto è fatto no? si 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 ti maniantato? si si ricognizione in arrivo stanno due a prison e tre a Dekon anche le c'è a Dekon bruttissimi stanno sì sì noi saliamo sopra il chemical dove stavamo prima all'ultimo piano cerchiamo di farci quelli di prison quando crossano oh stanno già crossandolo ma qua stanno pure autonomia UAV esaurita, dietro alla base uno a terra ah c'è andiamo 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 cos'è? effetto ho perso tutto ultimi cinque forza ori tu, no io ero membro della squadra in rientro ritorno non chiedi disponibile passi valero, alla nuova zona sicura gas in arrivo faccio di equipaggiamento in arrivo ricognizione in arrivo vieni già, devi prendere lo doppio quei 3 da te sono rimasti, che sa? saliamo sopra, rientro un attimo che vedo se c'è quello l'altro c'è una maschera, non c'è? quello che abbiamo ucciso il stanzino ovviamente c'è un sacco di cose no, una maschera, ah ecco dove vogliamo andare? sali sali, iniziamo di gamecard rientro alla base ok da Dekon stavano, quindi potrebbero arrivare da dall'alto, da qua ho marcato la destinazione annullare la richiesta allora anche tu guardi da quel lato io guardo da questo il gas vi raggiunge ho sentito arrestare no, ha arrestato, ha arrestato c'è un soldato nemico un team nemico sentito guarda io ho giusto le munizioni due me ne pinga questo invece salire sì ma c'è qua sotto pensa 25 metri no ma c'è ma geminato c'è una nuova zona sicura ma c'è due fuori penso che stanno nel tunnel il gas è sempre più vicino entro il tunnel stanno questi mi hanno colpito va a prendere il culo è stato scappato ma come fai dai dai facciamo l'ultimo con Matteo che devo andare una buona che stava anti-kill no perché non la può è stato scappato manda la foto a Matteo sul dupo E' abbandonato le parti, tu sei lì Io, ah io so Quasi quasi me la salvo questa